Un saluto a tutte e tutti. Alle mie spalle quella che forse ancora per poco è la sede del settore ambiente e agricoltura della provincia di Ferrara. Siamo qui per portarvi a conoscere Stefano Calderoni, il nuovo assessore all'agricoltura, protezione flora e fauna, politiche giovanili e protezione civile. Ve lo avevamo introdotto nella prima puntata, oggi torniamo da lui per capire quale sarà il destino di questo stabile e di quel che rappresenta. Calderoni è uno dei più giovani assessori della provincia, ma la sua esperienza politica è quasi decennale. Classe 1981 ha iniziato nel 2004 come assessore del comune di Migliarino, dove ha vissuto. Dal 2009 al 2011 è stato segretario provinciale di rifondazione comunista. Oggi, laureato in sociologia del lavoro, sta ancora studiando per la seconda laurea in management e gestione delle risorse umane. Il poco tempo libero che gli rimane lo dedica alle sue passioni sportive, la pallavolo, la corsa e la bicicletta. Calderoni è diventato assessore il 30 dicembre 2011, dopo che per un lungo periodo era stata la presidente Zappaterra ad avere quella delega. Gli abbiamo chiesto come mai si è deciso di tornare a distinguere i ruoli. La presidente ha fatto una scelta importantissima, quella appunto di puntare su figure giovani. L'agricoltura sul nostro territorio ha un ruolo strategico, quindi affiancare un obiettivo importante, quello del ricambio generazionale, con una figura che rappresentasse anche questo tema è stata, credo, una scelta politica estremamente azzeccata. Speriamo, insomma, che con l'impegno e con la passione di poter dare risultati auspicati. Sembra più una punizione che una premiazione questa di questo assessorato in questo momento di grande rivoluzione per le province. Quali sono gli attuali sviluppi? La Regione Emilia Romagna ha istituito una commissione di valutazione per la ridistribuzione delle funzioni, quindi ancora di certezza non ve ne sono. La Regione non può pensare che il tema, un tema importante come quello dell'agricoltura, venga deciso magari in qualche buia stanza, lontano dal territorio dove i problemi esistono. Quali sono le competenze che rimarranno eventualmente alla provincia e quali andranno alla Regione? Anche qui continuiamo di interrogarci. Ovviamente la richiesta è che rimangano le stesse competenze, quindi anche quelle di programmazione, ovviamente anche per quanto riguarda i fondi strutturali. La Regione oggi si sta impegnando e si è attivata per trovare la quadra nel giro di pochi mesi. Speriamo di avere notizie certe da potervi dare anche a voi e ai nostri agricoltori. Quando termina il mandato dell'attuale giunta provinciale ferrarese? Fino a qualche mese fa sembravamo a scadenso, un po' come i prodotti alimentari. Ora effettivamente pare che l'obiettivo sia quello di portare le giunte a fine mandato e poi si vedrà che cosa succederà. Noi comunque abbiamo ancora due anni importanti di lavoro, non vogliamo deludere le aspettative, certamente questi non saranno due anni pensati e immaginati come chi non vede una prospettiva. Qual è l'esperienza in campo agricolo di Stefano Calderoni? Com'è finito in questa avventura? Io provengo da una famiglia di contadini. Sono sempre stato molto orgoglioso delle mie origini. Credo che i valori che c'erano anche all'interno delle nostre comunità rurali siano valori importantissimi che dobbiamo in qualche modo trasferire. E quindi credo che questo forse sia più un elemento anche affettivo che mi ha spinto a immaginarmi e la Presidente a immaginarmi in questo ruolo. Cerchiamo di riassumere in tre parole chiave gli obiettivi di questo mandato. Giovani, semplificazione e impresa. Azioni concrete legate a queste tre parole chiave, ne avete già in programma. È nata da poco la consulta agricola provinciale e ci convocheremo proprio su questo tema perché io credo che sul tema dei giovani non bisogna spendere solo parole ma bisogna anche far fatti e per far fatti c'è bisogno del contributo di tutti. Non ci possiamo noi da soli immaginare delle soluzioni. Ripeto, il tema del credito vale tanto per le imprese già sviluppate quanto per quelle giovani, anzi soprattutto per quelle giovani che non hanno alle proprie spalle strumenti e garanzie, così come credo che il ruolo delle associazioni professionali debba essere centrale per costruire con noi un progetto. Insomma, io sono disposto a farmi parte di Ligente in qualsiasi luogo per sostenere assieme a loro un progetto. Chiaro che ci vuole il contributo di tutti, questo è un po' lo spirito con cui ci stiamo immaginando anche di dare risposta al tema delle giovani generazioni. Noi dobbiamo partire da un presupposto, il nostro è un territorio unico, quindi noi lanciamo l'idea di un marchio, un marchio che parli di Ferrara, parli del nostro territorio, insomma un marchio che permetta al consumatore finale di riconoscere immediatamente che quel prodotto viene dalla sua terra, viene dalle nostre campagne, viene dal nostro mare, è un prodotto a chilometri zero e quindi con tantissimi valori aggiunti. Questa è la nostra sfida, lanciamo questa sfida a grande distribuzione, stiamo ragionando con le associazioni di categorie, abbiamo già ricevuto da loro importanti rassicurazioni, disponibilità certamente importanti e quindi crediamo che il tema di un marchio possa diventare un elemento, un valore aggiunto. Dicevamo grande momento di rivoluzione per le province ma anche in particolare per il nostro assessorato provinciale all'agricoltura che sta attraversando un momento di cambiamento nella pratica perché pare che il trasloco dall'attuale sede di via Bologna 534 a Ferrara sia imminente, è così? Oggi ci troviamo costretti ad andarcene da qua perché sta diventando troppo oneroso, perché i tagli del governo hanno inciso pesantemente sui nostri bilanci, ci si parla di circa 5 milioni di euro che abbiamo perso insomma da un giorno all'altro e quindi bisogna fare delle scelte anche difficili. Una di queste ci ha costretto a tutti gli effetti a concentrare e ridurre il numero di edifici che erano gestiti dall'ente provincia e concentrare gli uffici all'interno di quelli di nostra proprietà. Qua noi siamo ospiti perché è un immobile della regione, abbiamo scelto di riportare l'assessorato agricoltura in via Cavour dove vi è un immobile di nostra proprietà. Questo ci permetterà a regime di risparmiare circa 250 mila euro all'anno. Chiaramente sappiamo e siamo consapevoli che questo determinerà o potrà determinare anche un disservizio inizialmente. Crediamo che a regime comunque riusciremo ad abituare le persone ai nuovi spazi, nuovi luoghi. Certo che faremo di tutto per rendere quello spazio, quello di via Cavour, assolutamente accessibile quindi garantendo parcheggi per chi deve accedere ai nostri sportelli, ai nostri uffici. Grazie all'assessore Calderoni e i nostri auguri in bocca al lupo per questo mandato. Grazie, grazie a voi.